Sono la cugina di Georgina Rodriguez Ovviamente sto scherzando, ma dato che è quasi sotto ogni mio video c'è almeno un commento che dice Hai qualcosa di Georgina, hai qualcosa di la mole di CR7 Assomigli tanto a... ma solo io non dato che... Quindi oggi ho deciso di mettermi a confronto con lei Vedere se effettivamente c'è questa somiglianza Sono andata nel suo profilo e ho cercato la foto più semplice che avesse E ho trovato questa Quindi ho deciso di mettermi a confronto Cercando di replicare anche la foto Quindi mettiamoci in posa Ditemi se effettivamente notate questa somiglianza Io naturalmente non la noto